Ehi ragazzi, ciao, come va? Sono Manu di Italy Made Easy, oggi voglio fare un vlog in cui parlo dell'alimentazione, della mia alimentazione, perché è un argomento che tutti mi chiedono, ok? Tutti i giorni qualcuno mi chiede perché non mangi la carne, perché non mangi il formaggio, eccetera. Allora vorrei discutere di alimentazione con voi in italiano, per fare un po' di pratica. Allora, innanzitutto a me non piacciono molto le etichette, i nomi, diciamo le... non mi piace appartenere a una categoria, però tecnicamente sono quello che si chiama vegano in italiano, quindi vegano, che è una persona che non mangia, non mangia carne, non mangia pesce, non mangia uova e non mangia i derivati degli animali, quindi non mangio il formaggio, non mangio il miele, non... e inoltre personalmente io non uso, non mi vesto con cose che vengono da animali, quindi non uso la lana, la seta, eccetera, eccetera. Comunque, ma oggi vorrei parlarvi più che altro non del motivo per quale... per il quale sono vegano, ma del che cosa mangio, perché questa è una domanda un po' curiosa, no? La gente mi chiede, ma che mangi? Se non mangi la carne, il pesce, il formaggio, che mangi? Allora, la verità è questa, che da quando sono vegano, cioè nove anni, mangio molto di più, mangio più varietà di cibo rispetto a prima. Prima, da onnivro, mangiavo poche cose, diciamo che mangiavo due o tre tipi di formaggio, la mozzarella, la ricotta e il parmigiano. Di carne mangiavo soltanto il pollo e il canguro e di pesce mangiavo soltanto il pesce a spada e il tonno, quindi non avevo una grande varietà di cibo. E poi mangiavo le cose normali, quindi il pane, la pasta, il riso, le uova, poche cose. Allora, io vi ricordo, ho fatto una lista di che cosa mangiavo prima e scusate se c'è il rumore, ma sono in sala e sono in cucina e c'è il traffico, sono le macchine. Mangiavo più o meno cinquanta tipi di cibo, quindi cinquanta cose, quindi il pane, la pasta, il riso, ok, cinquanta, più o meno cinquanta cose. Quando sono diventato vegano ho scoperto molti più alimenti, quindi molti più cereali, molti più frutta secca, semi, molti più verdure anche, quindi adesso mangio più o meno centocinquanta tipi di cose. Quindi per me essere vegano è molto molto facile, non è un sacrificio, c'è cibo dappertutto. Che cosa mangio? Allora, mangio moltissima frutta perché adoro la frutta, soprattutto la frutta tropicale. Sono fortunato perché abito in Queensland, in Australia, quindi c'è molta frutta tropicale. E poi mangio molta verdura, quindi, che ne so, zucchine, broccoli, melanzane, ma anche verdure un po' più particolari, tipo il cavolo nero, kale, che in italiano, in Italia non si usa molto, verdure cinesi, mangio tantissima verdura, spinaci, eccetera, eccetera. Poi mangio cereali, quindi mangio quella che si chiama quinoa, mangio il, mangio il riso non molto, mangio le segale, il farro, mangio, mangio molti legumi, si chiamano legumi? Sì, mi pare di sì, in italiano sono legumi, sono quindi i ceci, i fagioli, le lenticchie, buone le lenticchie. Adoro il tofu, quindi mangio molto tofu perché mi piace, mangio il tempeh, che è un cibo indonesiano, simile al tofu, diciamo, sempre soia. E che altro mangio? Oddio! Mangio la frutta secca, mangio molti datteri, molte noci, ma allora mi privo di qualcosa? No, in effetti no, perché ultimamente tutti i giorni mangio la pizza, faccio una pizza veloce veloce, ho un forno che fa la pizza, poi ve lo faccio vedere, ci metto un po' di pomodoro, un po' d'olio, un po' di olive, se voglio prendo un avocado e ci metto dell'avocado, poi, che ne so, carciofi, del tofu, è buonissimo, è buonissimo e non è difficile. Se voi siete vegetariani o vegani e andate in Italia, non vi preoccupate più di tanto perché è vero che in Italia non c'è la cultura di vegano, ok? E neanche molto di vegetariano, quindi se voi andate in un ristorante, non c'è nel menu la lista con la V per vegetariani o l'opzione vegana, non esiste, però i ristoranti italiani sono molto molto flessibili e basta parlare con il cameriere o con il cuoco, quindi basta spiegare guarda, prendo questa pizza senza la mozzarella, senza la salsiccia, ma con più verdura e loro ti portano una pizza con le melanzane, le zucchine, i funghi, tutto quello che vuoi. E' molto molto facile. La cucina italiana ha moltissime verdure, quindi molto cibo italiano è già... piano, traffico, basta! Ok, la cucina italiana ha moltissima verdura, ci sono molti piatti che sono già vegetariani. L'unica cosa che li rende non vegani è il formaggio, quindi il parmigiano alla fine, ma basta dire non voglio il parmigiano, non metto il parmigiano. Ricordatevi che la... quasi tutta la pasta in Italia è vegetariana, non abbiamo molta... molti tipi di pasta con la carne, l'unica opzione diciamo con la carne più o meno, abbiamo le uniche opzioni sono il ragù, quello che in inglese si chiama bolognese, che non esiste, ma comunque è il ragù. E la... come si chiama? La carbonara, che ha la pancetta, che è come il bacon più o meno, e l'uovo. Quindi... ma generalmente la pasta è vegetariana in Italia, il riso è vegetariano, il risotto è vegetariano, quindi basta non usare il formaggio. E' molto molto facile essere vegetariani in Italia, ok? Quindi se siete vegetariani non vi preoccupate troppo, ok? Vi saluto per oggi, un bacione, ciao ciao! Questo è il microfono, mi sono dimenticato! Fatemi piace per favore e iscrivetevi al canale! Si chiama Italy Made Easy, ciao ciao! Don't forget to subscribe! Ciao ciao!